Musica Ancora nessun preliminare di vendita per il passaggio dal comune all'autorità portuale dell'area di Fiumaretta. Nuova scadenza fissata al 15 novembre. Al centro il problema della bonifica. Palazzo del Pincio al lavoro in vista dell'avvio dei lavori di emunizione e ricostruzione dei palazzi dia 16 settembre. Da parte dell'ATRE si studiano le alternative per la viabilità. È stato provato in giunta il piano triennale delle opere pubbliche, tra le priorità dell'amministrazione, il rifacimento delle strade, la riqualificazione del mercato e la realizzazione del nuovo pala grammatico. Presentato da Calfcommercio uno studio sulle attività predominanti in città e sui lavori più richiesti. Si cercano operatori nel settore della somministrazione di cibi e bevande, ma anche commessi. Torna al Palasport. L'Aspes Vita Vecchia e le Rosso Blu affronteranno domani alle 18.00 l'Ascor. Si è stretto che le precede in classifica. Il gruppo di guidozzi cerca il tris di vittorie casalinghe. Ben trovati. Slitta è il preliminare di vendita per l'area di Fiumaretta tra il Comune di Civita Vecchia e l'autorità portuale. L'atto, che doveva essere sottoscritto entro il 30 ottobre, nell'ambito del megaprogetto che era stato presentato dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Selvini, potrà essere però firmato entro il 15 novembre. Ma il clima tra Palazzo del Pincio e Molo Vispucci non appare sereno, perché al centro resta la questione della bonifica, della quale si continua a non parlare. Vediamo il servizio. Dopo il grido di allarme, solamente l'ultimo in ordine di tempo, da parte del Movimento 5 Stelle, è tornato di attualità il tema del megaprogetto che era stato presentato a Civita Vecchia ad inizio 2023 e che riguardava l'area di Fiumaretta e quella ex Italcementi. In una conferenza stampa svoltasi l'11 gennaio a Palazzo del Pincio, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, venivano illustrati alcuni dettagli, come la cessione dal Comune all'autorità portuale delle aree della ex centrale di Fiumaretta, destinate a diventare una piattaforma logistica per il trasporto e lo stoccaggio di prodotti agroalimentari. Cessione vincolata alle onerose attività di bonifica necessarie per ripulire un'area interessata dal problema riguardante la possibile presenza di idrocarburi e metalli nel sottosuolo. Si tratta infatti di uno spazio che per quasi quattro decenni aveva ospitato una centrale termoelettrica particolarmente inquinante. Il 30 ottobre scorso è scaduto il termine per procedere alla sottoscrizione del preliminare di vendita tra Autoriti e Palazzo del Pincio, data che è stata prorogata al 15 novembre con una lettera che il Comune ha inviato a Molo Vespucci. Lettera alla quale ha risposto il Presidente Pino Mosolino, il quale ha rivendicato il fatto che per ultimare il passaggio l'area sarebbe dovuta essere libera da oneri legati alla bonifica, tema che finora non è stato affrontato dal Pincio, almeno stando a quanto comunicato alla DSP. Ad aggravare un clima non certo amichevole il fatto che nell'ultimo comitato di gestione portuale il componente designato dal Pincio ha chiesto il rinvio della discussione e dell'approvazione del piano triennale degli investimenti 2024-2026 dell'Autoriti, una delle due condizioni vincolanti alla base dell'approvazione del passaggio di Fiumaretta, oltre all'appostamento nella spesa del bilancio del MIT. A provare a spegnere la polemica è il sindaco Ernesto Tedesco. Per quanto mi riguarda non è in atto alcuno scontro con l'Autoriti, tantomeno un braccio di ferro con il Presidente, afferma il primo cittadino. Si sta affrontando una questione di carattere tecnico che è già stata portata all'attenzione del Ministero alla fine di settembre e che sarà oggetto di un prossimo incontro in quella sede nei prossimi giorni. Dallo stesso Ministero, peraltro, mi fanno sapere che le procedure per il finanziamento sono state attivate. La volontà è solo quella di portare a termine un progetto importante per la città e in tal senso si sta lavorando. E passiamo al maltempo. Come annunciato ieri dal Dipartimento della Protezione Civile, si registrano in città condizioni meteorologiche avverse. Siamo nel mezzo delle 18-24 ore individuate come allerta gialla per il Lazio e si parla quindi della possibilità di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci quindi di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento che in città hanno raggiunto già i 40 nodi provocando mareggiate. Intanto la Protezione Civile, guidata dal coordinatore Valentino Arillo, si prepara ad inviare una squadra di volontari in Toscana che insieme al Veneto in queste ore sta pagando le conseguenze della tempesta Ciaran. Già tre i morti e sei dispersi per una situazione di grande emergenza dal punto di vista idrogeologico. E cambiamo argomento. Mentre sono in fase di ultimazione i lavori dell'autorità portuale a largo della pace, volti a migliorare il traffico dei pullman e pedonale che interessa lo snodo cittadino dove partono e arrivano i croceristi, il Comune si prepara ad affrontare una nuova emergenza sempre legata però alla viabilità ai lavori di demolizione e ricostruzione dei tre palazzi di via 16 Settembre al via il 15 novembre prossimo. Dimitri Vitali si procede con i lavori a largo della pace per gestire il traffico sia pedonale che degli autobus che trasportano i croceristi ma al pincio si lavora anche per un'altra questione relativa al traffico veicolare quando inizieranno i lavori ai palazzi di via 16 Settembre. Siamo impagnati su due fronti nevralgici tra l'altro largo della pace che seguendo il progetto dell'autorità portuale darà delle nuove situazioni di viabilità veicolare e pedonale mettendo all'interno di largo della pace tutti gli stalli anche nostri del servizio pubblico per evitare che si ammassi quella folla che quotidianamente vediamo presso quel sito. In contemporanea partono i lavori di via 16 Settembre, questo cantiere che ha visto un travaglio molto lungo che ringraziando il cielo grazie al lavoro fatto dall'amministrazione comunale e chiaramente dall'Atare siamo riusciti a portare a compimento nella fase di demolizione e ricostruzione della struttura in cemento armato bisognerà occupare chiaramente metà corsia. Un problema chiaramente per il traffico da quelle parti perché sappiamo tutti insomma che via 16 Settembre è un punto cruciale per il traffico cittadino che poi si è intasato va a intasare via Isonzo, va a intasare il viale, insomma va a intasare tutte le arterie principali della città di Civitavecchia. Chiaramente delle difficoltà ci saranno quindi già lo anticipo alla città, d'altronde non possiamo fare diversamente il palazzo di via 16 Settembre se stava al Casaletto Rosso non stavamo chiaramente a questa cosa. Molte famiglie che oggi sono chiaramente dislocate nei vari alberghi, bed and breakfast eccetera, quindi riavranno la loro abitazione come giusto che sia. Quindi è un'opera importante e necessaria. Chiaramente questo comporterà una sorta di difficoltà dal punto di vista del traffico, adesso stanno studiando un piano della viabilità che chiaramente anche si diciamo incrocia con i lavori di Largo della Pace perché inizieranno più o meno lo stesso periodo e quindi speriamo insomma di ottimizzare al meglio e di far defluire al meglio studiando dei percorsi alternativi magari impedendo al parcheggio nei lati di alcune vie della città per permettere ripeto il deflusso normale del traffico. L'inizio lavori chiaramente è fatto a fase quindi io credo che la prima fase sarà quella delle opere di cantiere poi si procederà chiaramente per verificare lo stato delle bombe perché chiaramente Civitavecchia tutti sanno che quando vai a toccare insomma alcune parti della città rischi di trovare qualche cosa quindi si farà un'opera di bonifica qualora fosse necessario io mi auguro di no se no chiaramente i cantieri proseguono e loro come cronoprogramma hanno detto che entro 12 mesi faranno la demolizione e la ricostruzione della struttura in cemento armato e quello sarà il tempo necessario all'azienda perché diciamo utilizza quella corsia di via 16 settembre superata quella fase quindi fatta una volta la struttura in cemento armato potranno retrocedere e via 16 settembre ritornerà ad essere quello che è oggi. Il presidente del gruppo consigliare Lega con Salvini nel consiglio di città metropolitana Antonio Gianmusso ha scritto una lettera urgente a darsi al riguardante allo stato delle alberature di via Fontana a Tetta. Nei giorni scorsi un grosso ramo a ferma Gianmusso staccatosi dall'albero a causa del forte vento ha colpito un motociclista in transito sulla strada provinciale un incidente che poteva avere un tragico epilogo che ha fatto suonare un campanello d'allarme ho verificato le competenze su quel tratto di strada e dopo aver appurato che la responsabilità degli alberi è dell'agenzia regionale proprietaria dei terreni ho voluto richiedere un intervento urgente ad Arsial affinché il pericolo alla sicurezza stradale sia scongiurato. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Raffaele Cacciapuoti comunica la firma della delibera con la quale il comune ha aderito alla piattaforma CUDE al fine di agevolare la mobilità su tutto il territorio nazionale per le persone titolari di contrassegno unificato disabili europeo e snellire così il carico burocratico degli uffici comunali. È una banca dati unica che semplifica gli spostamenti per le persone disabili spiega il consigliere Cacciapuoti un progetto al quale abbiamo aderito affinché i disabili titolari di auto non abbiano più l'obbligo di comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle strade e corsie dove vigono divieti e limitazioni anche se si sposta in un comune diverso da quello di residenza. Modalità e documenti necessari per la richiesta del codice univoco associato al CUDE verranno comunicati a breve. E giriamo ancora una volta. Pagine è stato approvato nella mattinata di mercoledì il piano triennale delle opere pubbliche del comune di Civitavecchia. Tra le priorità dell'amministrazione comunale nella persona dell'assessore ai lavori pubblici Daniele Perello c'è il rifacimento delle strade, la riqualificazione del mercato e la realizzazione del nuovo pala grammatico. E proprio l'impianto sportivo polivalente di San Liborio è uno dei progetti su cui punta maggiormente Perello con la seconda fase dei lavori che partirà a breve con un finanziamento di 1 milione e 300 mila euro. In programma anche restyling delle strade di Borgo, Odescalchi e Molacce. Valore del finanziamento statale ottenuto è da investire circa un milione e mezzo di euro per le due opere. Infine la riqualificazione del mercato con il pincio in attesa del progetto esecutivo come confermato proprio dallo stesso assessore Perello. Ascoltiamolo in questa intervista. Sono previsti altri interventi parlando ad esempio del mercato, del fattore? Beh Civitavecchia è un cantiere aperto in questo momento, ve lo sarà ancora di più. Per la prima volta abbiamo dei dialoghi importanti con i Dalgas, con Enel, con Acea, con la fibra e stanno ripristinando dove erano intervenuti. Stiamo intervenendo su tante cose, in giunta abbiamo approvato il pieno delle opere e ci sono delle opere molto importanti che porteremo avanti e ne vedremo delle belle. È stato approvato l'avviso pubblico per la concessione dei voucher per il Natale 2023 a favore di persone o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Gli interessati potranno presentare domanda fino alle ore 12 del 17 novembre. Per uviare alla fine dell'emergenza Covid dei relativi contributi regionali, quest'anno l'assessore servizi sociali Deborah Zacchei ha voluto integrare l'importo iniziale iscritto in bilancio di 70.000 euro con un fondo supplementare. Insieme agli uffici con un lavoro capillare siamo riusciti a reperire una somma aggiuntiva di 140.000 euro, ha dichiarato l'assessore Zacchei, che consentirà a maggior numero di persone e famiglie in difficoltà di sentire la vicinanza della comunità. Per tutte le informazioni sul bando potete leggere l'articolo su www.trcgiornale.it Urgenze ed emergenze in ostetricia. È questo il tema del due giorni di formazione che ha visto coinvolti ginecologi ed ostetriche della UOC ginecologia ed ostetricia del San Paolo. Nel corso delle giornate gli operatori sanitari hanno preso parte a lezioni sia teorico che pratiche e grazie all'ausilio di speciali manichini hanno potuto provare le tecniche apprese. Sono stati due giorni di formazione intensiva, ha spiegato il dottor Alessandro Lena, primario della UOC ginecologia ostetricia dell'ASL Roma 4, che hanno permesso ai nostri operatori di aggiornarsi, scoprire nuove risorse, confrontarsi sia tra di loro che con i professionisti che hanno tenuto le diverse sessioni. Un vero momento di crescita. Secondo la direttrice generale dell'ASL Roma 4, Cristina Matranga, l'azienda sanitaria locale è molto attenta all'aggiornamento e alla formazione del proprio personale perché è solo in questo modo che si può offrire assistenza e cure di qualità. Il rinancio del nostro punto nascita, conclude la dirigente generale, passa anche per la professionalità dei nostri operatori che devono essere competenti e in grado di gestire ogni complicazione. Giriamo pagina. Comprendere quali attività commerciali compongono il tessuto cittadino e di conseguenza di che tipo di figure professionali c'è più richiesta. Sono gli obiettivi di un interessante studio condotto su Civitavecchia da Confcommercio con la collaborazione di Promoter, società per la promozione e lo sviluppo del terziario di Confcommercio Roma attraverso una ricerca nella quale è stata utilizzata l'intelligenza artificiale. I risultati dicono che si cercano soprattutto operatori del settore somministrazione di alimenti e bevande, personale di servizio in sala e addetti alla cucina, ma anche banconisti, scaffalisti, commessi di accoglienza e vendita il servizio. Al primo posto operatori del settore somministrazione di alimenti e bevande, personale di servizio in sala, personale, addetto alla cucina, pizzaioli, addetti alla zona lavaggio, servizio di accoglienza. Al secondo posto posizioni lavorative relative alla vendita al dettaglio, banconisti, scaffalisti, commessi di accoglienza e vendita. Ad indicare quali sono le figure più richieste in città con riferimento particolare al periodo primaverile ed estivo, ma non solo, è uno studio svolto dalla Confcommercio di Civitavecchia in collaborazione con Promoter, società per la promozione e lo sviluppo del terziario di Confcommercio Roma, attraverso una ricerca nella quale è stata utilizzata l'intelligenza artificiale per analizzare una serie di dati relativi alla nostra città. L'esigenza primaria della ricerca era quella di comprendere quali attività commerciali componessero il tessuto cittadino e di conseguenza di che tipo di figure professionali ci fosse più richiesta. Con questo obiettivo sono stati analizzati gli annunci di lavoro sulle maggiori piattaforme di riferimento da aprile a fine ottobre 2023, intrecciandoli con i dati delle attività commerciali. I risultati principali sono che su poco più di 3.000 codici a teco attivi in totale, il comparto che pesa per più di un terzo, circa 1.200 attività, fanno parte del commercio al dettaglio, compreso alloggio e ristorazione, per un totale di oltre 3.300 persone impiegate. Sono presenti circa 200 attività di ristorazione, poco meno di 150 attività di bar e altri esercizi simili senza cucina, nelle quali lavorano circa 1.300 persone. Notevole peso ed importanza viene data anche agli ipermercati e supermercati, così come anche alle realtà più piccole di quartiere o dell'area del mercato, che hanno un peso occupazionale di oltre 600 persone. Proprio per rispondere a questi numeri, tra le figure più ricercate in rete, primi in classifica, operatori del settore somministrazione di alimenti e bevande, personale di servizio in sala, personale addetto alla cucina, pizzaioli, addetti alla zona lavaggio, servizio di accoglienza e al secondo posto posizioni lavorative relative alla vendita al dettaglio, banconisti, scaffalisti, commessi di accoglienza e vendita. Notevole richiesta anche da parte delle agenzie immobiliari e in generale di aziende che cercano agenti di commercio. In conclusione, affermano da Confcommercio, siamo consapevoli che sarà sicuramente un biennio il prossimo dove il tessuto commerciale avrà forte necessità di persone da impiegare in questi settori dove c'è maggior richiesta. Siamo pronti insieme a Promoter, società accreditata presso la Regione Lazio come ente per la formazione continua e superiore, presso i fondi interprofessionali come ente attuatore e presentatore, a organizzare incontri formativi gratuiti dedicati alle imprese che serviranno a comprendere come farsi trovare pronti. Il bar come luogo di incontro per suonare, cantare, ballare, raccontare storie. Il bar popolato dai suoi clienti fissi, improbabili e non, e anche da quelli occasionali. Naturalmente il bar come sfondo della vita reale, come microcosmo della società che riproduce problemi, sorrisi, vizi e virtù di tutti i giorni. E questo è il succo di chiacchiere da bar, lo spettacolo di teatro canzone in programma al teatro Nuovo Salgasma domani alle 21 e domenica alle 19. Uno spettacolo nel quale Numa, leader della band romana nata nel 2014 e poi esplosa durante il Covid, con i suoi concerti a Piazza Trilussa a Trastevere, narra la sua storia, quella dei suoi amici, i numeri a caso, inframezzandola con i brani del nuovo album, chiacchiere da bar appunto appena uscito e scene poi anche di vita vissuta. L'Associazione Radio Amatori Italiani Sezioni Civitavecchia festeggia i suoi primi 50 anni. Per l'occasione Lari ha deciso di organizzare per domani dalle 9 alle 12 una mattinata di festa, di radio, di divertimento e memoria in uno dei luoghi simbolo della città e straordinariamente legato al genio marconiano, vale a dire il forte Michelangelo, magico luogo insieme a Torre Cheruccia legato allo sviluppo della radio nella sua forma più moderna. All'ingresso della sala biblioteca del forte Michelangelo sarà esposto modello statico del panfilo Elettra e anche alcuni apparati di radio d'epoca. Bene, con questa notizia termina qui questa prima parte del nostro telegiornale, ma restate con noi perché subito dopo il break pubblicitario ci saranno le notizie sportive. A tra poco dunque. E apriamo la pagina sportiva con la palla a mano. Comincia il campionato per la Flavioni finestra perfetta nella nuova stagione di Serie A2. Si parte con un impegno domenica mattina alle 11.45 con le giallo-blu che ospiteranno al Palace Sport in Solera Tamagnini le pugliesi del Conversano. Subito uno scontro contro una squadra di valori con cui negli ultimi anni Ferretti e compagni hanno dato battaglia sui campi della cadetteria. Ascoltiamo l'intervista proprio a Capitan Ferretti. Federica Ferretti sorride perché il campionato sta iniziando per quanto riguarda la Flavioni finestra perfetta. Si debutta in casa di domenica mattina affrontate il Conversano. Come ci arrivate? Finalmente il grande giorno è arrivato. Credo che siamo pronti per affrontare questa partita comunque da quest'estate che abbiamo riconinunciato a riprendere la forma fisica. Abbiamo ripreso gli allenamenti, c'è molta costanza da parte di tutto il gruppo quindi siamo fiduciosi. Immagino avrai parlato con i tuoi compagni di squadra, con la brava capitana. Cosa vuoi dare le tue compagne anche da te stessa in questa nuova stagione che magari nello scorso anno non si è visto? Sicuramente questa stagione è un trampolino di lancio rispetto a quella passata che come sappiamo non è andata proprio al meglio. Io rientro in piena forma fisica dopo l'infortunio. Abbiamo buoni propositi, siamo tutte belle cariche per iniziare questo campionato. Poi con il Conversano sono sempre belle partite, già dai tempi della Serie 1 anche se erano altri palcoscenici, altre situazioni. Quindi si combatterà, sarà una partita lottata. Abbiamo visto questo girone in cui sembra che il Chiaravalle possa lottare e portarsi a casa al primo posto. Comunque sia c'è da scendere in campo ogni domenica, ogni sabato e portare a casa pure. Sicuramente il Conversano è una squadra che conosciamo abbastanza bene, abbiamo fatto molte partite, non dobbiamo mai sottovalutare l'avversario anche perché comunque l'altro anno abbiamo perso contro di loro, però noi ce la metteremo tutta come ce la metteremo tutta in tutte le partite che affronteremo. Passiamo alla pallavolo. Obiettivo Triss per la 3PC Asp nelle partite in casa del campionato di Serie C. Domani alle 18 primi scambi al Palace Porto in Solera Tamagnini dove la formazione di Giovanni Guidozzi ospiterà l'Ascor. Dopo le prime due vittorie interne le Rosso-Blu hanno bisogno di ripetersi e mettere in tasca altri punti per stare lontane dai posti che scottano in classifica, anche se le romane hanno quattro punti di vantaggio e sono partite bene in stagione da valutare Capitan Belli che ha un piccolo dolore al tendine d'Achille che si porta avanti da qualche tempo. E per il basket invece ancora una sfida in trasferta, ma questa volta di sabato per la Stemmer 90 cestistica in Serie C. Per domani alle 19.30 è prevista la gara in terra romana contro Palocco. Per il quintetto di Gabriele Larosa c'è voglia di raggiungere il primo successo in trasferta dopo due sconfitte. I padroni di casa sono tra le squadre partite meglio e si trovano seconde a sei punti dove c'è anche Basket Time che sarà il prossimo avversario. Passiamo ora al calcio a 5. Ritorno in campo col sorriso per la Futsal Academy in Serie C1. Domani alle 15 fischio d'inizio all'Ivan lottatori dove la squadra di Umberto Di Maio sfiderà la Lidense. Dopo il pareggio con la Canottieri Lazio ogni gara sembra essere nelle corde dei nerazzurri che vogliono continuare a vivere un momento splendido nella zona playoff e magari con la doppia cifra di vantaggio nei confronti dei posti play out. Saranno assenti moritti per motivi di lavoro così come gli infortunati giovani e donati. E vediamo ora l'hockey. Appuntamento prestigioso per le sniperine CRT della CV Scouting. Domani alle ore 18 a Forlì, match visibile in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione. Le civi trechiese si giocheranno alla Supercoppa italiana femminile di hockey in line contro l'HC Milano che nella scorsa stagione ha vinto sia Coppa che Campionato. Il match sarà giocato all'interno della cornice del Trofeo delle Regioni, Kermesse giovanile che vedrà protagonisti i migliori talenti da tutta Italia. Vediamo ora il karate è calato il sipario sull'Open del Pala Ferraris a Casal Monferrato dove oltre 800 atleti si sono sfidati per scalare il ranking italiano dedicato alle classi d'età under 21, junior, cadetti e under 14. È stata una giornata ricca di combattimenti tra kata e kumite e una bella occasione di incontri per i giovani karatechi di tutta Italia tra cui tre che hanno rappresentato Civitavecchia. Ludovica Legittimo che ha difeso i colori dello scierai San Valentino ha vinto la medaglia d'oro nella categoria Juniors 48 kg. Bronzo invece per Simone Conversini tra gli esordienti 50 kg che si è distinto sempre per il club civitavecchiese anche Valerio Rovetto giunto settimo nei cadetti 52 kg. E questa era la nostra ultima notizia del TRC giornale serale ma prima di sentarvi come sempre vi ricordiamo i nostri appuntamenti e di seguirci quindi anche sulle nostre pagine social ovvero Facebook, YouTube ed Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. A risentirci.